Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di teatri sostenibili e a difesa dell'ambiente. La sostenibilità è un argomento che ormai ci riguarda tutti da vicino e di cui sentiamo parlare quotidianamente nei giornali, nei libri, in televisione. Anche il mondo del teatro ha deciso di effettuare un cambio rotta in questo senso. Infatti, a Milano nasce l'Ecoteatro, il primo teatro milanese ad aver adottato una gestione sostenibile, ponendo al centro della propria attività il tema ambientale. Infatti, è stato eliminato totalmente l'utilizzo della plastica usegetta, la fornitura elettrica giunge da fonti rinnovabili e vengono utilizzate luci led a basso consumo, la pulizia viene effettuata tramite prodotti ecologici, per chi giunge in bicicletta viene fatto uno sconto sul biglietto e inoltre il teatro partecipa annualmente alla piantumazione di alberi per il Parco Nord di Milano, per compensare le emissioni di CO2. Anche la rassegna teatrale rispetta la filosofia del teatro, unendo tutti quegli artisti che sposano la causa ambientale, come ad esempio Marisa Laurito, che ha aperto la stagione 2019-2020. In Francia, invece, ad opera dello studio britannico Andrew Todd, nasce un teatro elisabettiano nel parco del teatro di Aderloo, vicino Calais. La struttura imita il Globe Theatre di Londra, ed è completamente realizzata in pannelli curvi di legno massiccio, esternamente circondati da pali di bambù alti 12 metri. Il teatro ospita un auditorium su due piani e 388 posti. Con un palcoscenico esposto su tre lati al pubblico, è un cammino centrale che permette la ventilazione e l'ingresso di luce naturale, in modo da limitare l'utilizzo delle luci artificiali solamente per l'illuminazione del palco, creando così un consumo annuo minore di quello procapite francese. Inoltre, il teatro può ospitare anche opere liriche, poiché ha una buca orchestrale e un proscenio. Spero vivamente che nel tempo vengono realizzate più luoghi e più strutture come queste, al fine di permettere la diffusione della cultura, difendendo sempre il meraviglioso pianeta che abitiamo. E voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere nei commenti!